Lo sport come sfida i propri limiti, amore per paesaggi incantati e per quella fatica positiva che dona soddisfazioni a fine giornata a chi la prova. E questa è la filosofia che ha spinto il catanese Carmelo Ladelfa a sfidare il deserto nel suo personale ride nel Sahara tunisino, un'avventura che il biker catanese racconta ai nostri microfoni. È andata molto bene, sono soddisfatto per come ho condotto tutta l'impresa, seguendo la traccia che mi era stata imposta dal mio capo. L'unico ostacolo che ho avuto durante tutta la settimana è stato quello del forte vento, che era una cosa non prevista ma prevedibile dato il periodo. E questo mi ha condizionato parecchio perché il vento ha portato sabbia nuova e soprattutto sia all'andata che al ritorno ho pedalato contro vento. Quindi, diciamo, diverse difficoltà. Per fortuna devo dire che la bicicletta ha risposto molto bene, soprattutto il primo giorno. Il primo giorno ho fatto 122 chilometri, molto al di sopra delle mie normali possibilità. E anche lì, devo dire, cercando di gestire l'autonomia della batteria e piuttosto che naturalmente delle mie riserve energetiche. Quindi, detto questo, i giorni successivi abbiamo, come dire, gestito il resto del tragitto in base alle condizioni della sabbia e naturalmente di quello che potevo o non potevo fare. Quello che è successo dopo è stata, come dire, una casualità o comunque imposto appunto dalle condizioni atmosferiche. Nel senso che io ho dovuto fermare la bicicletta, non potevo più pedalare, non c'era più possibilità di andare oltre proprio per le condizioni. E per un attimo, preso allo sconforto, mi sono fermato due secondi a riflettere e lì mi è passata per la mente questa idea ancora più folle di quella iniziale, cioè di continuare a terminare la mia impresa correndo. Quindi gli ultimi 15 chilometri li ho fatti correndo e camminando, perché non voglio essere presuntuoso, non è facile camminare sulle dune con la sabbia morbida, figuriamoci correndo. Una tappa di duathlon praticamente. E dici bene, ma infatti durante questi giorni stando sempre solo, riflettendo con me stesso, in effetti mi è venuta questa idea, cioè la prossima avventura potrebbe trasformarsi in maniera ufficiale e non casuale in una tappa di duathlon con delle bici muscolari e la parte finale appunto correndo. E quella è stata la cosa che mi ha dato soddisfazione, ma soprattutto mi ha reso orgoglioso, perché come ho detto prima di partire non era tanto un record che mi interessava, ma soprattutto abbattere alcuni limiti fisici e mentali che io piuttosto che chiunque altro può avere riguardo a un'impresa del genere nel deserto. Altre imprese in programma, in agenda? Quello che mi verrà in mente. Io non mi sono mai definito un vero ciclista, ma uno che si diverte a stare in bicicletta. Quindi se trovo un'altra impresa che mi potrà portare soddisfazione e divertimento, allora la metterò in pratica.